365 giorni di impegno incessante nel segno della prevenzione e della repressione dei reati attraverso nuove e consolidate strategie condivise sempre con i vari attori della sicurezza dalla prefettura alle altre forze di polizia, dai sindaci alle associazioni che sempre più numerose hanno aderito a progetti ed iniziative è il bilancio assolutamente positivo targato Polizia di Stato di Benevento agli ordini del servitore dello Stato, il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai con provincia sicura, fa notare Bellassai, in linea di continuità con l'anno 2017 abbiamo cercato di dare il massimo impulso all'attività di controllo del territorio un territorio vasto e dalle caratteristiche peculiari incastonato tra province a ben maggior tasso di criminalità repressione ma anche prevenzione con il camper rosa con gli interventi negli istituti scolastici eccellente il sistema di sicurezza messo in campo con la venuta di Papa Francesco a Pietrelcina nel corso dei servizi svolti sul territorio di tutta la provincia sono state identificate ben 39.223 persone e effettuati 139 arresti tra i quali spiccano 58 reati in materia di stupefacenti 22 per furto, 5 per rapine e altrettanti per episodi di stalking e maltrattamento in ambito familiare importanti i risultati nella lotta alla prostituzione e di grande rilevanza anche l'attività espletata dalla Digos denominata Mani in Pasta colminata con l'arresto di 5 persone responsabili di vari reati connessi alla gestione dei centri d'accoglienza per migranti questo e non solo numeri che restituiscono un'attività senza sosta degli uomini di Bellassai la guardia rimane sempre alta nell'abbattere i fenomeni criminosi anche attraverso una pianificazione strategica delle azioni da mettere in campo il rispetto della legge sottolinea il questore di Benevento Giuseppe Bellassai non si ottiene soltanto attraverso la repressione l'esperienza dimostra che è necessario incidere sulla cultura dei giovani attraverso una costante e diffusa attività di prevenzione e sensibilizzazione la chiosa è andremo avanti garantendo giustizia attraverso azioni repressive ma anche preventive così Bellassai